Biennale Spazio Pubblico edizione 2013 Viaggio nei comuni delle buone pratiche Una proposta orientativa per l'organizzazione del laboratorio tematico Nel lanciare la colla ai comuni abbiamo indicato come preferibile la formula del laboratorio o workshop con l'intenzione di far lavorare insieme rappresentanti dei comuni ed esperti dell'argomento in modo che si possa concludere la giornata di lavoro con un report documento che sia frutto di un impegno collettivo Ogni comune che ospita il laboratorio ha ampi margini di autonomia organizzativa tuttavia diamo alcune indicazioni generali per orientare un percorso il più possibile omogeneo Gli organizzatori almeno un mese prima dello svolgimento del laboratorio dovranno inviare una scheda ai comuni Questi dovranno rispedirla completa di informazioni sugli aspetti positivi, quelli negativi, quelli problematici della pratica svolta Le schede saranno sintetizzate in un documento che sarà inviato ai partecipanti alcuni giorni prima dello svolgimento del laboratorio in modo che questi possano orientarsi sugli argomenti che saranno oggetto di discussione Il laboratorio dovrebbe avere la durata di circa 6 ore Come appare in questo programma, che ha valore esclusivamente indicativo, si può dividere la giornata in due fasi Una mattutina nella quale si mettono a fuoco le pratiche e i problemi da approfondire Una pomeridiana che si conclude con la stesura di un report condiviso Per la pausa è consigliabile la preparazione di un buffet nei luoghi dove si svolgono le attività Non distrae i partecipanti, favorisce dialoghi informali e conoscenze personali A meno che non si disponga di sofisticate tecnologie, il laboratorio non deve superare le 30-40 persone Sarà necessario poter disporre di spazi donnei, con tavoli e sedie mobili È consigliabile l'ausilio di facilitatori per rendere più produttivo il lavoro Non disperdersi, rispettare i tempi, evitare prevaricazioni culturali e personali I responsabili del laboratorio sceglieranno un esperto della materia per ogni tavolo di lavoro Dalle esperienze descritte dai comuni risposte alla call emerge il ruolo determinante svolto dai cittadini, singoli ed associati, nei progetti di rigenerazione urbana Qualora i comuni che ospitano i laboratori decidano di coinvolgere i cittadini in questa iniziativa possono discutere del report in un'assemblea pubblica o in un incontro con i principali stakeholder locali Come già detto, queste indicazioni valgono come orientamento generale Le amministrazioni locali adotteranno in totale libertà la formula che ritengono più idonea Auguriamo a tutti un buon lavoro!